Sono le nuove rotte, il miglior modo di fare memoria è quello di impegnarci di più tutti, non solo in qualche giornata ma 365 giorni all'anno. Queste navi vogliono portare questi ragazzi a toccare con mano una realtà, a riflettere, a porsi delle domande e degli interrogativi, ma questi ragazzi nelle scuole durante tutto l'anno fanno dei percorsi di conoscenza, un conoscere per essere persone più responsabili e quindi noi dobbiamo fare in modo che la E di congiunzione diventi verbo. Conoscere è responsabilità, responsabilità è conoscere. Abbiamo bisogno di verità nel nostro paese e vi prego di non dimenticare che non c'è strage e che si conosca verità in Italia. Il 75% dei familiari delle vittime innocenti di mafia non conosce la verità di questo solo in parte. Queste due stragi chiedono ancora una volta e lo chiedono i familiari, lo chiediamo anche noi, verità e giustizia. C'è uno schieramento di prima linea contro la camorra e le mafie molto forte, a cominciare dalla politica. Io ci metto la faccia in prima persona, i magistrati, le forze loro, le scuole. Le scuole a Napoli stanno in prima linea come presidio e punto di riferimento contro la camorra. Io dico sempre che quel messaggio di Edoardo De Filippo, quando diceva ai napoletani che non c'è la speranza, fui dove inna. Se i camorristi non si vogliono redimere, fui dove inna e lo diciamo a loro.